Ecco, ben trovate per proseguire il nostro cammino degli esercizi spirituali. In questa meditazione focalizzeremo la nostra attenzione e la nostra preghiera su altri personaggi di questa festa di nozze, i discepoli. Allora, come sempre facciamo, condivido con voi l'immagine e lo slide che in questo momento ci accompagneranno. Ecco, con i tre passaggi, i tre momenti, le tre letture che vogliamo fare insieme. C'erano i discepoli. Comunità generative di vita perché fraterne. La profezia della fraternità. Ecco, il Vangelo di San Giovanni ha questa affermazione precisa. Fu invitato Gesù con i suoi discepoli. Il brano evangelico ha una sottolineatura particolare che non va dimenticata. Anche Gesù fu invitato alle nozze insieme ai suoi discepoli. I discepoli sono gli amici di Gesù, arrivate con lui, insieme con lui alla festa. Questi discepoli erano stati chiamati da lui e già lo avevano seguito. Da un po' di tempo abitavano con lui. Prima, ecco, di questo episodio delle nozze di Cana, ricordiamo che Gesù già aveva fatto la chiamata, la scelta dei primi discepoli. Andrea, Simón Pietro, Filippo, Natanaele e forse qualcun altro. Quindi erano già del gruppo, ma non formavano ancora una comunità di credenti. Ecco, la fede dei discepoli nasce proprio in questo momento del primo segno di Gesù. A Cana, quando Gesù rivelò la sua identità, essi compresero, almeno inizialmente, chi fosse il maestro e credettero in lui. Ecco quell'affermazione finale di questo brano evangelico. E credettero in lui. Quindi è il momento che si inizia veramente quella comunità dei credenti, anche se questa fede dei discepoli deve ancora crescere, deve ancora maturare. E Gesù farà con loro tutto un cammino, anche in questo senso. Sono discepoli, i diaconoi, servitore, che a Cana si mettono a disposizione e con prontezza rispondono all'invito di Maria e di Gesù nel momento in cui la nuova alleanza, simboleggiata dalla festa nuziale, inizia il suo corso. Essi si prestano a collaborare all'opera di Gesù. La loro scelta di vita si qualifica come obbedienza nella fede. Ecco, prestano obbedienza a Gesù. Tra questi naturalmente emerge Maria stessa, che per prima ha compreso questa nuova diaconia e ha espinto i servitori a farsi discepoli di Cristo e a costituirsi con gli apostoli attorno a lui come una comunità messianica. Maria è madre dei credenti. È la prima che hai creduto la madre dei credenti. Realtà che in seguito verrà resa esplicita da Gesù presso la croce. Ecco, altra volta lì, Maria presente, la madre. Gesù la dona come madre dell'umanità. Parimente essa diventa nel mistero dell'allianza la sposa del Signore, che nel banchetto messianico è il vero sposo. E qui allora facciamo questa, la lettura salesiana, dopo questa lettura biblica, dove vediamo il costituirsi di questa comunità. Attorno a Gesù, i suoi discepoli, che già erano state chiamate, ma la loro fede, ecco, prenda la via, la comunità dei credenti nel senso pieno della parola, si inizia proprio adesso di fronte al primo segno di Gesù, cioè della rivelazione della sua identità. E ovvio questa sarà una fede che man mano anche lì va maturando e Gesù aiuta i discepoli a fare questo cammino fino alla rivelazione piena di Gesù sulla croce e nella sua risurrezione. E la lettura salesiana. Ecco, crediamo che le nostre comunità sono generativi di vita quando sono fraterni. La comunità di Mornesi è feconda e generativa di vita perché in essa vi è la presenza di Gesù, come abbiamo ecco meditato precedentemente. E Gesù, che è l'assoluto padrone della casa e dei cuori, e Maria è la vera superiore e la madre della casa. Anche a Mornesi esiste una comunità di discepoli, che cresce giorno dopo giorno nella fede e cerca di testimoniare la bellezza della fraternità. Lo Spirito Santo ha aperto il cuore di Maria Domenica e delle prime figlie di Maria Auxiliatrice, donne semplici e coraggiose, a fare della propria esistenza una prolungata attenzione d'amore a colui chi ama per primo. L'essere di Dio le ha portate a esprimere il suo amore nella dedizione totale di sé agli altri, a farsi dono. Continuamente rigenerata dalla parola, come anche abbiamo riflettuto precedentemente, fortificata nell'Eucaristia e dal perdono ricevuto e donato, la prima comunità di Mornesi, guidata da Maria Domenica Mazzarello, è generatrice di vita, di speranza e di gioia per le ragrazze povere e per le famiglie in difficoltà. E questo noi leggiamo anche nel documento di preparazione al prossimo capitolo generale, quando parla della prima comunità. Qui noi vediamo una comunità che tende insieme alla santità. Ecco, questo elemento, tendere insieme. Ecco, qui una santità dal colore, dalle sfumature comunitarie. La santità della figlia di Maria Ausiliatrice, noi sappiamo, non è una santità individualista o isolata. Ognuna costruisce il suo cammino come le pare. Essa porta una forte impronta missionaria comunitaria. Nelle Costituzioni noi leggiamo La comunità diventa il luogo privilegiato di formazione, quando in un ambiente di famiglia e di testimonianza evangelica, si tende insieme alla santità nello stile salesiano. Ecco, la prima comunità di Mornesi non è stata canonizzata insieme, nel senso ufficiale della parola. Ma credo che nessuna di noi dubita che essa è una comunità santa, una comunità che ha vissuto continuamente in questo tendere insieme alla misura alta della vita cristiana, dove ognuna aveva una ferma volontà di farsi sante. Credo che nessuna di noi dubita di questo. Della comunità di Mornesi si afferma che essa era la casa dell'amore di Dio, della Laus Perenis, dove la santità era vissuta nel quotidiano in tessuto d'amore. Madre Mazzarello stessa osserva con stupore, e questa è un'espressione di una lettera che lei scrive a Don Caliero. Io resto meravigliata e insieme confusa, guardando tutti questi figli sempre allegri e tranquilli. Ecco, una madre che contempla, che legge, che vede, e che osserva questa prima comunità e resta stupita, meravigliata, di come il Signore stesso va guidando nonostante la sua, ecco, come lei stessa dice, quasi incapacità della sua umiltà, della sua piccolezza. Quanto il Signore va lavorando all'interno di questa comunità e allora resta meravigliata di questa azione di Dio. Che bello vedere questo. In un clima profondamente evangelico, le prime figlie di Maria Ausiliatrice accolgono i doni di santità, i doni di santità sono sempre i doni dello Spirito, e portano frutti di santificazione nel modo che è proprio ciascuna. Ciascuna può essere sé stessa. Dio le trova umili e docile, e perciò libera in loro le risorse più belle del loro essere doni dal cuore indiviso. Ecco, e qui è bello vedere come ognuna può essere sé stessa, può portare il suo dono, può fiorire con i suoi doni all'interno della comunità. Pensiamo alla passione educativa in Sora Emilia Mosca, la semplicità di Sora Enricchetta Sorbone, la calma serena in Petronilla, l'umiltà e lo spirito contemplativo di Assunta Gaino, l'allegria contagiosa di Sora Maria San Pietro, la saggia prudenza in Sora Giovanna Ferretino, la fortezza d'amore in Sora Felicità, la sorella della madre e così via. Ecco, ognuna può esprimersi nella sua irrepetibilità e con i suoi doni, con quello dono che gli è proprio. Rimane sempre attuale la testimonianza di Enricchetta Sorbone sullo spirito di Mordese. Nelle sue noti intime lei scrive, grande obbedienza, semplicità, esatezza alla Santa Regola, ammirabile raccoglimento e silenzio, spirito di orazione e di mortificazione, candore e innocenza, amore fraterno nel conversare, gioia e allegria così serena che pareva un ambiente di paradiso. Non si pensava, né si parlava che di Dio e del suo santo amore, di amare Maria, San Giuseppe, l'angelo custode, e si lavorava sempre sotto i loro dolcissimi sguardi, come se fossero lì presenti e non si avevano altre mire. Come era bella la vita. Ecco, esprimere questo, come era bella la vita, non vuol dire neanche idealizzare la comunità. Sappiamo quante difficoltà, quante fragilità, quante cose. Nonostante ciò, il Signore lavora, cammina e va facendo strada, cioè va lavorando all'interno di questa comunità. Quindi questa espressione, quanto era bella la vita, non vuol dire anche non avere, non incontrare le difficoltà, non vuol dire idealizzare le comunità. Maria Domenica Masarello è una donna di comunione nel senso più pieno della parola. E a Mornesi non c'è solo la Masarello o la Masarello da sola, ma Madre Masarello e la comunità di Mornesi. La sua storia di vita, la sua santità, si mescola e si fa un tutt'uno con quelle delle sue figlie. Lei vive per le sue figlie, prega per esse, offre la vita per loro. La sua santità si trasfonde quasi per contagio alle sue figlie. Ma anche lei vive dalla santità delle sue figlie. La santità era un impegno e un dono reciproco. Una vive incoraggiata dalle altre e questo è il bello. Allora il cerchio, il movimento di un clima di santità che esisteva ecco nella prima comunità. Parlando della prima comunità dobbiamo parlare anche di una generatività educativa, una comunità che vive non per se stessa o chiusa in se stessa, ma una comunità in uscita missionaria, una comunità per la missione. Ecco, allora c'è poi un'altra dimensione importante dalla santità delle figlie di Maria Auxiliatrice. Questa è una santità educativa, sempre in compagnia dei giovani. Le Costituzioni affermano animati dalla carità apostolica orienteremo le giovani a scoprire la gioia profonda della comunione con Dio. Lo stesso articolo evidenzia un programma di santità giovanile. Le basi della spiritualità e della pedagogia salesiana, la vita sacramentale e mariana. Si traduce in un serio programma di santità, di lavoro, preghiera, pietà, un autentico programma di santità e porta le giovani a essere apostoli di altri giovani. in questo senso è significativo che tanto l'esperienza di vita comune delle figlie di Maria Immacolata nella casa dell'Immacolata quanto l'esperienza delle figlie di Maria Auxiliatrice ambedue queste esperienze sono iniziate da un gruppo di educatrici consacrate insieme con un gruppo di giovani. La casa delle figlie di Maria Immacolata è iniziata con un gruppo delle figlie di Maria Immacolata e ragazze e anche l'istituto delle figlie di Maria Auxiliatrice le consacrate insieme alle giovani. Anzi, queste due comunità nascono per una chiara finalità accompagnare le ragazze alla santità generare Cristo nel loro cuore. Amornese ogni giovane era colta per quello chi era e per quello che poteva diventare. Più avanti in un'altra meditazione rifletteremo mediteremo ecco sull'azione della prima comunità nei confronti delle ragazze e vediamo che perfino possiamo parlare di storie di vere conversioni avvenute. Ecco Amornese Maria Beletti Emma Ferrero Corinna Rivotti e tante altre che vivono veramente un cammino di trasformazione grande di parlare di vera e profonda conversione. Le educatrici animate e guidate da Maria Domenica erano desiderosi di portare le giovani all'incontro con Dio e a percorrere un cammino di santità con loro. Ecco uno dei criteri educativi di grande importanza è stato per Maria Domenica la priorità della persona. la persona creata immagini e somiglianza di Dio al centro di un processo educativo. Attraverso la sua personale adesione al progetto di Dio voleva portare ciascuna giovane all'incontro vitale con Gesù. Il suo messaggio educativo parte dall'educazione al lavoro e alla laboriosità e accompagna in un clima di gioia serena e contagiosa un cammino di santità vissuta nella semplicità del quotidiano e nell'apertura e nelle aperture apostoliche. Quindi la santità per la figlia di Maria ausiliatrice non è mai un cammino solitario ma sempre in compagnia con i giovani e nella comunità. La santità suscita nuove storie di santità. Essa è di per sé come la bontà diffusiva. Da questa constatazione scaturisce l'importanza di una pedagogia della santità. Don Bosco e Madre Mazzarello hanno saputo suscitare capolavori di santità e non solo. Hanno creato ambienti attraenti che attirassero la santità. Valdoco e Mornese sono luoghi dove si respira la santità. infine possiamo parlare di Mornese come scuola di comunione. Ecco la prima comunità delle figlie di Maria ausiliatrice si configurava come casa e scuola di comunione o come si esprime nella vita fraterna in comunità scuola amores dove le sorelle crescevano si formavano e tendevano insieme all'amore di Dio e verso gli altri e facevano l'esperienza dell'amore misericordioso di Dio che li accompagnava. La comunione era vissuta come partecipazione alla coinonia trinitaria che si concretizzava in relazioni di amore reciproco di fraternità di amicizia di farsi carico delle debolezze altrui di scambio di doni di corresponsabilità e appartenenza si viveva così una santità tutta impegnata sul essere per l'altra essere per gli altri sul vivere per l'altra e tutto ciò è stato mostrato incarnato da Gesù stesso nella consapevolezza che si va a Dio non solo attraverso l'altra ma anche insieme con l'altra non si può essere persone felice e complete da solo ma unicamente insieme agli altri si tratta quindi di assumere il rischio ma soprattutto la gioia dell'incontro con l'altra di prendersi cura delle sorelle insieme in modo gioioso e responsabile percorre un cammino di santità si realizzano così quelle parole che tante volte noi preghiamo con i salmi ecco quanto è buono e quanto è suave e quanto è bello che i fratelli vivano insieme ecco questa bellezza della vita vissuta in comunità della comunione tra di noi diventa la prima forma di evangelizzazione e che bello quando la gente ecco può e colere questo colere questa testimonianza delle nostre comunità qui ci sono parecchie testimonianze che riporto un po' una raccolta delle fonti ma vorrei alla luce di questo che abbiamo detto finora soltanto una testimonianza di Don Caliero un altro direttore salesiano direttore generale dell'istituto ma che hai conosciuto molto da vicino Madre Masarello e la prima comunità all'inizio dell'istituto delle figlie di Maria Auxiliatrice e lui in questa testimonianza che lascia siamo negli anni della beatificazione e canonizzazione di Madre Masarello descrive così questa comunità credo che è una descrizione molto bella che in fondo la sostanza è profondamente evangelica uno solo era lo spirito che regnava tra loro uno solo il cuore per volersi bene una sola la volontà di tutte nell'obbedire uno solo il desiderio di far sé sante e uno solo il loro amore a Dio alla santa povertà di nostro Signore Gesù Cristo al sacrificio alla preghiera e al lavoro e questo sacro concerto di cuore di volontà e di amore lo dirigeva la superiore o meglio la zelantissima e carissima madre Maria Mazzarello sempre prima in tutto e soprattutto nell'umiltà nella carità e religiosa osservanza ecco che bella descrizione della prima comunità demonese questa lasciata da un direttore il direttore generale da un caliero e e sì allora facciamo già il terzo passaggio che è quali elementi possiamo cogliere quali spunti di lettura per pensare a una lettura di attualizzazione a noi come vivere oggi ecco questa questa parola di Dio credo che è una forte chiamata per noi alla profezia della vita consacrata della fraternità la vocazione della figlia di Maria ausiliatrice e la vita fraterna sono essenzialmente orientate alla missione come educatrici siamo chiamate ad essere segno e espressione dell'amore di Dio ai giovani la prima forma di evangelizzazione ed essere questo segno e espressione è la testimonianza della comunità comunione la missione dell'istituto per essere feconda e generativa deve partire dalla qualità relazionale dei suoi membri figli di Maria ausiliatrice educatori educatrici giovani compresi ecco insieme vivere questa esperienza forte di comunione ecco parafaseando un autore possiamo dire che la bellezza della fraternità salverà il mondo la fraternità che noi chiamiamo spirito di famiglia salva e diventa profezia perché contribuisce alla conversione aiuta uscire dall'egoismo e spazio di formazione luogo del paziente passaggio dall'io al noi dalla comunità per me all'io per la comunità dal mio impegno all'impegno affidato alla comunità vediamo che qui ci sono passaggi veramente intensi significativi al quale siamo chiamati giorno dopo giorno a compiere il cardinale martini riconosceva che se una comunità è unita è gioiosa è accogliente è aperta la gente lo avverte subito anche senza darne ragione dicono ecco mi piacerebbe essere in quel luogo ecco l'importanza ecco di una testimonianza della vita comunitaria della bellezza della fraternità ebbene noi sappiamo che viviamo in una società complessa marcata da un forte individualismo che oggi minaccia fortemente anche le nostre comunità sentiamo più che mai la necessità di capovolgere questo atteggiamento per creare una cultura della fratellanza della sororità e pensiamo qui la chiamata di Papa Francesco con l'enciclica fratelli tutti a sentirsi tutti fratelli sorelle e vivere questa comunione rispettando ognuna coinvolgendo ognuna valorizzando ognuna per quello che è ecco questo un atteggiamento profondo per far fronte di fronte a questo individualismo che dilaga oggi quando le reti gli strumenti della comunicazione umana hanno raggiunto i sviluppi inauditi sentiamo la sfida di scoprire e trasmettere la mistica del vivere insieme di mescolarci di incontrarci di prenderci in braccio di appoggiarci di partecipare a questa marea un po' caotica che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità in una carovana solidale in un santo pellegrinaggio ecco queste sono parole di Papa Francesco nell'Evangelio Gaudium questa mistica di vivere insieme mescolarci con gli altri la mistica della fraternità è un esercizio di profonda umanità nell'impegno quotidiano di riconoscere nel volto di ogni persona il mistero e la presenza di Gesù questo riconoscere prende corpo e visibilità nei gesti di vicinanza agli altri e di cooperazione con loro di voglia di donare e condividere il proprio tempo di accompagnare i giovani nel loro cammino esistenziale e con loro andare verso la santità che si manifesta in fraternità rivelatrice della Trinità una volta Papa Francesco è stata fatta una esplicita domanda se la vita comunitaria possa continuare a essere segno in un polo di attrazione per i giovani ecco il Papa Francesco si dà una risposta affermativa ma mettendo una condizione cioè la vita religiosa la vita consacrata può continuare a essere segno l'attrazione ai giovani a condizione che la vita fraterna sia autentica ecco l'autenticità delle relazioni la bellezza delle relazioni che non vuol dire negare momenti di difficoltà del conflitto ma dell'autenticità della vita dove ognuna si sente in cammino e irradia questa bellezza della vita comunitaria Papa Francesco richiama l'esperienza di una comunità religiosa dove c'è testimonianza dove si vive con intensità e gioia la vocazione da persone consacrate e quindi può contagiare nei giovani la gioia di vivere in comunità un grande maestro spirituale dei nostri tempi Enri Nouwen propose un viaggio spirituale per l'uomo contemporaneo in tre tappe movimenti che mi sembra molto interessante e vi propongo qui per la vostra riflessione meditazione di questo giorno che sono movimenti come lui dice tappe movimenti passare dall'isolamento alla solitudine e questo movimento mette in risalto il rapporto con noi stessi il movimento dall'ostilità all'ospitalità e qui mette in risalto il rapporto con i fratelli cioè passare dall'ostilità che può anche nascondersi nella nostra vita all'ospitalità al fare spazio all'altro e un terzo movimento che è il passaggio dall'illusione alla preghiera e questo mette in risalto il nostro rapporto con Dio in questi tre movimenti ci sono tutti i rapporti che caratterizzano la nostra vita con noi stessi con gli altri con Dio passare ecco quest'ultimo passare dall'illusione alla vera preghiera quella preghiera che è fatta vita nel quale io dialogo con un Dio che è persona un Dio che è amore e vorrei riportare un intero paragrafo dove questo stesso autore dove noi lo vediamo lo vediamo come grande attualità la riflessione che lui fa che riguarda il nostro rapporto con le persone e la profezia della fraternità e vi leggo un paragrafo un tanto lungo ma che mi sembra molto illuminante su questo tema che stiamo sviluppando in questa meditazione in un mondo popolato dai stranei straniati dal loro passato dalla loro cultura dal loro paese dai loro vicini dagli amici dalla famiglia dall'intimo io e da Dio noi assistiamo alla ricerca dolorosa di un luogo ospitale dove la vita possa essere vissuta senza timore e dove si possa trovare una comunità benché molti oserei dire la maggior parte degli strani di questo mondo diventano vittime di una ostilità generata dal timore è possibile per tutti e obbligatorio per i cristiani offrire uno spazio aperto e ospitale dove questi strani possano spogliarsi della loro straneità divenendo nostri fratelli il moto dall'ostilità all'ospitalità è arduo irto di difficoltà la nostra società è sempre più gremita di persone che temono che stanno sulla defensiva che aggrediscono aggrappandosi ansiosamente a ciò che possiedono che a guardare con sospetto il mondo che li circonda e sono sempre più in attesa di un nemico che spunti che si intrometta e faccia loro del male eppure la nostra vocazione è proprio questa convertire il nemico in ospite invitando creando lo spazio libero e senza paure in cui possa nascere ed essere sperimentata la fraternità ecco perché la profezia della fraternità è la missione alta per la vita consacrata oggi la comunità è un valore fondamentale della nostra vocazione vale la pena in questo giorno riflettere sugli articoli delle nostre costituzioni in numeri 50 62 73 per un confronto di vita per una verifica di vita è stato detto che il futuro della vita consacrata si gioca nella comunità lì è la vera profezia dove ci si impegna a passare dal vivere insieme alla comunione di vita che c'è una differenza vivere insieme alla vera comunione creare questa comunione dove si passa dall'io al noi allora la comunione diventa profezia e missione ebbene in questa giornata siamo invitati a riprendere in mano questi articoli a cui già ho fatto riferimento gli articoli delle nostre costituzioni dove parla propriamente della comunità l'articolo 50 62 73 e se vi può aiutare vi lascio anche queste domande per la riflessione e la meditazione personale ci sentiamo comunità in cammino verso la comunione e verso la profezia le nostre comunità sono serene gioiose contagianti la gente che viene a contatto con noi le giovani si sentono attratte dalle nostre comunità la gente che ci guarda e è a contatto con le nostre comunità possono dire di essa quello che dicevano dei primi cristiani vedi come si amano ecco e allora un buon incontro con il Dio della vita Dio Trinità comunione di vita e un buon incontro con madre Masarello e la prima comunità di Mornesi